Devo farvi vedere un prodotto che ci hanno regalato geniale, che è lui, Bob's Tape, ok? Adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. A parte packaging, bellissimo questo rosino, ci piace molto. Allora, il primo prodotto è questo, che sono dei copricapezzoli, quindi senza più paura di non usare il reggiseno, e soprattutto in estate adesso, sembra perfetto. Lui ovviamente si può utilizzare da solo, ma serve anche sotto al tape, ok? Che praticamente è magico, perché vi sostituisce il reggiseno con qualsiasi abito voi abbiate. Adesso vi faccio vedere. Sul retro della scatolina trovate tutti i modi in cui si può mettere, e quindi vi risolve praticamente, no, non praticamente, vi risolve tutti i tipi di abito e di scollatura che avete. Cioè, è pazzesco. Lo scotch è questo. È 100% cotone, analergico, latex free, e permette alla pelle di respirare, quindi fantastico. Si può mettere anche sotto i costumi. Piccolo dettaglio. Quindi ecco, cioè possiamo essere pronte ad affrontare l'estate, proprio in leggerezza e serenità. Tra l'altro ci sono davvero già un po' di abiti che ho in mente della collezione, nei nostri negozi, per il quale... Vabbè, comunque ora li proviamo, li testiamo, li facciamo sapere. L'Aila prova il tape che, cioè, a me... Sì, perché almeno ho qualcosa da sollevare, vuoi dire. Esatto, quello. Datemi un tape e vi solleverò le tette, fin se la contemano non con me. Ok. Però, sì, comunque lo provo, lo provo perché ci dobbiamo darvi una rece. Così, ecco, fai così che... Vi faccio sapere. Una rece, cos'è una rece, Marti? Un'incensione, una recensione. Come se avanti? Veramente, avantissimo.